Le parole del Presidente sono un motivo di orgoglio e sono contento di queste parole e continuerò a fare del mio meglio per dimostrare affetto a questi colori e a questa maglia. Ecco, è appena finito il ritiro di Moena, che Genoa hai trovato? Un Genoa motivato, con entusiasmo, unito ai propri tifosi che ha voglia di mettersi in gioco e di stupire. E questo campionato che campionato sarà? Sarà sicuramente difficilissimo, richiederà massimo impegno e spinta da parte di tutti e alla fine tireremo le somme e vedremo dove saremo arrivati.